Le immagini Le immagini che state vedendo ci portano indietro di 17 anni. Era il 1 luglio 2004, giorno dell'inaugurazione della chiesa dedicata a San Pio da Pietrelcina. Questa opera magnifica, francescana eppur grandiosa. Il nuovo che ci invita a riscoprire il vecchio, l'arte che è al servizio di un dialogo continuo. E la bellezza di questa struttura architettonica che ci invita appunto a riflettere su questo legame anche tra il vecchio e il nuovo. Pensate che il sagrato che state vedendo in questo momento, quel giorno gremito del popolo di San Pio, era il prato dove i fedeli di San Pio si riunivano per ricevere la benedizione di Padre Pio. E intanto mutamento, nulla è cambiato, soprattutto l'attrazione esercitata dal cappuccino con le stimmate, sulle persone semplici e su quelle in ricerca. Ben trovati, buongiorno, buon inizio di puntata, questa puntata speciale di Tempio d'Estate che sarà tutta dedicata a questo giorno celebrativo. Il giorno appunto in cui ricordiamo la dedicazione della chiesa di San Pio il 1 luglio 2004, ma anche la consacrazione del santuario della Madonna delle Grazie, sempre il 1 luglio del 1959. E allora noi in questo Tempio che è dono per tutto il popolo di Padre Pio, ma non solo, in questa straordinaria chiesa, in questo santuario, ci andiamo subito dove c'è per noi in collegamento Leonardo Fania. Leonardo ci sei? Sì, Maria Antonia, buongiorno. Era un giovedì, 17 anni fa, il 1 luglio 2004, quando Monsignor Domenico Umberto d'Ambrosio entrava dal portone centrale, cosiddetto ingresso liturgico e dava inizio ai solenni riti di dedicazione di questo Tempio che coniuga, come dicevi tu all'inizio, il cielo e la terra. Un Tempio che è stato intitolato a San Pio da Pietrelcina e che da 17 anni potremmo dire è il teatro di tutti gli eventi e gli appuntamenti più importanti che ruotano attorno alla figura del Santo del Gargano. Due papi sono stati qui, 21 giugno 2009, Papa Benedetto XVI che al mattino ha preseduto la celebrazione eucaristica nel Sagrato che prima abbiamo visto con le immagini di repertorio e poi nel pomeriggio ha incontrato i sacerdoti, i religiosi, i giovani in questa chiesa proprio dall'altare centrale che è alle mie spalle. 17 marzo 2018 infine Papa Francesco celebra la Santa Messa nel cinquantesimo anniversario della morte di San Pio da Pietrelcina, 23 settembre 1968 e sempre nello stesso Sagrato Papa Francesco appunto incontrava dopo essere stato a Pietrelcina la grande famiglia di Padre Pio da Pietrelcina. Un'opera questa che in continuo divenire nel corso degli anni si è arricchita di opere d'arte straordinarie come non citare i mosaici che padre Marco Rupnic assieme al suo atelier ha realizzato per decorare la chiesa inferiore che dal 19 aprile 2010 ospita le spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina e la rampa di accesso con alcune scene della vita del Santo di Assisi, di Francesco e della vita di Padre Pio appunto. E poi infine nel 2013 qui a pochi passi da noi la Cappella dell'Eucaristia che è stata affrescata sempre seguendo lo stesso canone artistico attraverso proprio la tecnica dell'affresco che vuole rappresentare l'ottavo giorno tutte scene relative alla risurrezione ma questo primo luglio è importante perché come hai tu ricordato da studio nel 1959 primo luglio appunto veniva dedicata il santuario di Santa Maria delle Grazie veniva intitolata alla Madonna delle Grazie prendendo il nome dalla chiesetta antica 62 anni fa da Monsignor Paolo Carta quella che poi padre Pio definì una scatola di fiammiferi e che poi per certi versi si è concretizzata in questa opera d'arte magnifica da cui stiamo trasmettendo. A te Maria Antonia. C'è un passaggio continuo Leonardo. Tu giustamente hai fatto riferimento appunto alla consagrazione del santuario di Santa Maria delle Grazie citando la famosa frase di Padre Pio appunto quando la vide una scatola di fiammiferi. possiamo dire che i motivi che spinsero allora a costruire la chiesa di Santa Maria delle Grazie erano appunto perché la chiesetta antica non riusciva più a contenere la moltitudine di gente che giungeva qui e la stessa cosa poi accade per la chiesa di San Pio. Del resto lo stesso padre Pio quando ci furono proprio i lavori della costruzione del santuario di Santa Maria delle Grazie che espresse il desiderio di avere una chiesa grande, fatela grande. Quindi possiamo dire che il motivo che spinse anche i frati Cappuccini a realizzare poi il santuario di San Pio oltre ad un motivo logistico per contenere appunto la moltitudine di fedeli è anche quello di aver dato seguito al desiderio di Padre Pio di avere una chiesa grande. Sì questo ce lo spiegherà meglio tra poco Carlos Sciarra che dall'ufficio accoglienza pellegrinaggi verrà un po' a spiegarci le ragioni che sono alla base della costruzione di questa chiesa e del santuario di Santa Maria delle Grazie. Quello che ci preme sottolineare penso che sia più importante è che i frati Cappuccini abbiano operato appunto nel nome di Padre Pio questi edifici, queste opere d'arte perché così le dobbiamo definire, queste in particolare ma anche il santuario di Santa Maria delle Grazie che contiene davvero delle opere di notevole pregio siano tutte desiderio di Padre Pio. prima per una come dire anche una sorta di miglioria nelle condizioni di accesso ai luoghi stessi perché chi conosce i luoghi a noi più vicini come il Sagrato di Santa Maria delle Grazie sa benissimo che all'epoca non era possibile contenere in uno spazio così angusto e con anche le condizioni infrastrutturali dell'epoca di San Giovanni Rotondo che era un paese poverissimo all'epoca e che poi man mano conoscendo lo sviluppo economico ha anche implementato quelle opere di urbanizzazione utili per accogliere i pellegrini ecco sa benissimo dicevo che era impossibile accogliere le innumerevoli folle che accorrevano qui e dunque il santuario di Santa Maria delle Grazie prima, la chiesa di San Pio poi rispondono a questo criterio di comodità chiamiamolo così per essere anche un po' banali che ogni pellegrino ricerca e oggi qui questo luogo è davvero dotato di tutti i comfort necessari per vivere in maniera piena e autentica come auspicano ormai da diverso tempo i frati minori Cappuccini il senso vero del pellegrinaggio che altro non è un accostarsi a Dio attraverso la figura di San Pio da Pietrelcina con il sacramento della riconciliazione che padre Pio ha praticato per tanti anni nella sua vita e la celebrazione dell'eucaristia che in questo luogo qui è davvero possibile a cui è davvero possibile partecipare in maniera degna e fruttuosa come chiede anche la chiesa stessa grazie Leonardo noi torneremo a collegarci con te come hai anticipato non appena arriverà il tuo ospite ovvero Carlos Sciarra dell'ufficio pellegrinaggi a fra poco a proposito dei confratelli di Padre Pio vogliamo rivivere quella giornata storica anche attraverso le parole di chi quel giorno lo visse direttamente all'epoca il ministro provinciale era fra Paolo Cuvino e allora riascoltiamo uno stralcio del suo intervento Francesco il poverello di Assisi voleva che ogni chiesa dalla più piccola alla più grande in quanto casa di Dio tra gli uomini fosse bella spaziosa ed accogliente preziosa come una gemma splendente come una sposa pronta per il suo sposo si danno realtà costruzioni opere belle grandiose ma quando spesso senza anima c'è una canzone dal titolo bella senza anima questa chiesa non solo è bella ed è un'opera meravigliosa ma ha un'anima è viva e palpitante promana un afflato sprigiona un respiro interiore che trasuda da ogni parte questa chiesa che i nostri occhi contemplano procura gioia intima e stupore indicibile essa rappresenta il dono dell'amore per il signore rappresenta il regalo dei suoi fratelli cappuccini dei figli spirituali dei devoti di ieri e di oggi a padre pio immagine viva di cristo crocifisso a perenne ricordo e nel segno di una gratitudine per le meraviglie che dio ha operato attraverso la sua testimonianza di santità un luogo sacro un santuario è davvero un grande dono per tutta la comunità e siamo davvero privilegiati anche onorati fra falo cuvino ricordava appunto il regalo a padre pio dei suoi confratelli questo è un regalo poi che rimarrà nella storia quindi siamo davvero fortunati e onorati di avere qui in questo luogo questa straordinaria opera d'arte che fu disegnata dalla matita del talento dell'architetto renzo piano e allora vogliamo ascoltare anche le sue parole pronunciate proprio nel giorno della dedicazione abbiamo cercato di ascoltarlo questo luogo e guardandolo attentamente la forma ne è scaturita sull'arte beh l'architettura è scienza ma è anche arte è arte di creare emozioni l'emozione che va creata con una chiesa è quella del raccoglimento una chiesa è luogo del silenzio per questo è così perché è così raccolta consente di mettere migliaia di persone molto molto vicine all'altare in realtà non è una chiesa quando entrerete vi renderete conto che sono sei o sette chiese la radialità come le dita della mano consente di vedere sempre l'altare in realtà lo spazio in cui si era chiusi non è gigantesco questo per quello che è l'arte naturalmente ci hanno aiutato gli artisti è stato molto bello lavorare con loro hanno fatto opere meravigliose una chiesa è chiesa quando si lavora anche sulle parti immateriali sulla luce sul suono voi sentirete il suono dell'organo dentro vedrete la luce immateriali la chiesa è fatta della pietra che abbiamo trovato qui e non proprio esattamente quella che abbiamo cavato qui però questa pietra affiorava fino al primo giorno quindi questa frugalità questa freschezza questa franchezza della chiesa deriva anche da questo queste parole dell'architetto renzo piano ci aiutano anche a capirne meglio il senso di questa straordinaria progettazione del resto lo stiamo facendo anche in queste puntate di tempio d'estate grazie appunto alle guide dell'ufficio pellegrinaggi carlos sciarra e mariana lops che ci aiutano a scoprire proprio queste straordinarie opere ad arte di cui parlava lo stesso architetto perché tanti sono stati gli artisti che hanno partecipato e hanno contribuito a realizzare quest'opera all'epoca arcivescovo della diocesi di manfredonia vieste san giovanni rotondo era monsignor d'ambrosio che tenne la sua omelia e vogliamo anche in questo passaggio riascoltare uno stralcio che appunto ci parla di quella giornata guardo i grandi archi di pietra che sostengono e rendono saldo e sicuro questo tempio e penso a quel monaco medievale che davanti all'incendio di una cattedrale alla gente che si affannava e si affollava inutilmente per spegnerlo gridava salvate le arcate principali sì siamo chiamati a salvare i fondamenti gli archi portanti della nostra convivenza della condivisione pensosa e preoccupata per il bene dell'uomo immagine e gloria di dio questo tempio racconterà le moltitudini di pellegrini il mistero dell'unica santità che è di dio stampata e ripresentata nella vita di padre pio che chiamato ha seguito il signore gesù nella totale immersione nel mistero della croce in lui stampata e resa anche visibilmente eloquente queste le parole pronunciate nell'omelia di monsignor domenico d'ambrosio all'epoca appunto arcivescovo della nostra diocesi ascolteremo poi anche altri passaggi torneremo a collegarci con la chiesa di stampio lo faremo appunto sempre grazie a leonardo fania carlos sciarra che ci riveleranno altri altre cose importanti legate appunto a questa ricorrenza per il momento ci fermiamo per pochissimo per pochi secondi diamo la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora qui e ritorniamo in diretta con tempio d'estate oggi che ricordiamo questa giornata importante ovvero la giornata in cui fu inaugurata la chiesa dedicata a stampio era il primo luglio 2004 allora torniamo a collegarci con leonardo fania che è proprio lì in questo luogo speciale già lo vedo in compagnia del nostro carlos sciarra ben trovato carlos buongiorno ciao maria antonia saluta maria antonia ciao 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 maria antonia ciao e bentrovati a tutti e allora dunque continuiamo a ripercorrere il filone della storia in questa giornata speciale all'inizio del mese di luglio un mese particolare alla vigilia anche della festa che prima del concilio vaticano secondo era era intitolata a santa maria delle grazie poi man mano ecco il calendario ha preso altre altre pieghe fino ad arrivare a settembre dunque primo luglio 1959 primo luglio 2004 c'è continuità fra queste due date c'è continuità fra le due chiese santa maria delle grazie san pio che oggi festeggiano la loro dedicazione sì certo è il giorno della dedicazione un giorno importante per la chiesa in effetti è il compleanno di questo luogo perché la straordinarietà qual è che la solennità che c'è oggi in questo luogo non c'è da nessun'altra parte nelle diocesi anche nella nostra diocesi non ci sono le letture non c'è il gloria quindi non c'è la solennità che caratterizza questo luogo e sicuramente questo è un concetto che abbiamo su cui abbiamo insistito più volte la continuità tra il santuario di santa maria delle grazie e la e la chiesa di san pio dalla scatola di fiammiferi a questo a questa grande questa grande assemblea questo grande luogo consacrato proprio dalla al culto ed è questo insomma il senso della dedicazione no perché anche la dedicazione storicamente delle chiese è un passo successivo le prime tracce delle consacrazioni proprio delle chiese l'abbiamo dopo il terzo secolo dopo quel famoso 313 dopo cristo che in un certo qual senso abilita i cristiani al culto libero al culto libero quindi prima di quel tempo non abbiamo il concetto della consacrazione quindi destinare un luogo proprio al culto ma semplicemente la chiesa che era un assemblea si radunava non dico in luoghi di fortuna però per esempio parte dal cortile della casa di pietro fino ad arrivare quei luoghi dove dove si potevano adunare qualcuno nascosto nel nascondimento delle catacombe delle e quindi per quanto riguarda la storia romana altri erano semplici piazze semplici adunanze finché a un certo punto la chiesa non decide di consacrare proprio con tutta una cerimonia bellissima noi abbiamo visto degli scorci ed è una simbologia molto molto forte la chiesa permettetemi di dire nella nella sua liturgia non è mai banale quello che a noi può sembrare anche pesante ha dietro un significato profondo preciso che non lascia neanche dubbi sulla sua interpretazione cioè proprio un significato forte e quindi qui è bello aver potuto vivere questi due questi due momenti di consacrazione è vero che padre pio ha definito il santuario di santa maria delle grazie una scatola di fiammiferi però è anche vero forse in quella che è la storia sempre no anche forse padre pio uomo aveva avuto questa visione però noi oggi ci rendiamo conto dell'utilità di questi due luoghi della bellezza e della fortuna di avere questi due santuari questi due luoghi di culto perché viviamo no lo abbiamo visto diciamo nelle difficoltà di questo periodo della pandemia ma lo vediamo nel periodo invernale quando la comunità si restringe la chiesa di nel santuario di santa maria delle grazie ha una sua funzione centrale nella vita di questo di tutto questo luogo dedicato a san pio e poi questa chiesa questa chiesa domenicale che ha una sua funzione proprio inerente alla vita dei pellegrini quindi a tutto quello che il flusso che padre pio ha generato e poi è bello poter festeggiare diciamo il compleanno di questo luogo di cui tutti noi bene o male anche se non eravamo non eravamo sicuramente parte attiva però abbiamo abbiamo partecipato la maggior parte di quelli che ci seguono la maggior parte di noi che lavoriamo qui iniziavamo a muovere i primi passi in questo ambiente quindi per noi è anche un motivo di vanto sicuramente perché abbiamo partecipato a qualcosa di grande a qualcosa di solenne e sicuramente qualcosa di non banale un qualcosa che si è dipanato nel corso degli anni perché ricordiamoci carlos di quando c'era io ero piccolissimo non avevo neanche 4 5 anni mi ricordo insomma di questa spianata che era ancora in divenire gli archi ancora non c'erano c'era una statua di padre pio se non vado errato dunque una storia che è andata avanti nel corso degli anni e che anche dei nomi ben precisi ora voglio evitare di fare l'elenco perché sicuramente dimenticherei qualcuno ma alcuni volti li abbiamo visti renzo piano l'architetto di questa di questa magnifica opera d'arte che dopo di questa non ha più fatto chiese ecco è una caratteristica anche importante sì diciamo che è una sfida che forse da un certo punto di vista non l'ha entusiasmato particolarmente però a me piace leggerci sempre il progetto divino sicuramente renzo piano se dovevamo andare a leggere il suo curriculum di cristiano diciamo era il curriculum meno adatto sicuramente lo era dal punto di vista della straordinarietà del personaggio della sua creatività insomma renzo piano non lo scopriamo noi certo non è non è grande per grazie alla chiesa di san pio ma la chiesa di san pio contribuisce ad arricchire diciamo il suo curriculum di grande architetto e sicuramente quindi questo è il progetto di dio dio si serve proprio della mano di questo architetto del suo entourage del suo studio sicuramente avrete avuto modo di ricordare padre gerardo salduto lui stesso lo ricordava di quando insistentemente quindi mandava queste benedizioni finché lui fu preso proprio per sfinimento questo è il progetto di dio bellissimo lui a un certo punto ha detto senti sti frati non me li tolgo più di torno quindi ha accettato di realizzare quest'opera straordinaria e questo è il regalo sicuramente che anche il mondo laico ha fatto a padre pio sicuramente io ci leggo sempre un messaggio divino da questo punto di vista ed è stato bello lo hai detto tu noi qui era prima terra incolta poi pian piano una spianata e quando noi ci affacciavamo c'era padre giammaria di giorgio no anche lui legato comunque nella realizzazione di questa chiesa che raccontava dice voi la dovete immaginare sarà così sarà grande quindi sai tutto noi vedevamo questo sogno poi le prime impalcature le prime gettate di cemento che tu non riuscivi a leggere il progetto quindi te ne andavi ancora più confuso bah chissà come sarà finché poi non arrivi al progetto finito e ti rendi conto che il signore opera in maniera straordinaria dicevamo prima carlos anche dell'importanza del santuario di santa maria delle grazie ecco noi abbiamo vissuto più da vicino la costruzione di questa chiesa quindi magari sappiamo anche un po' più nei dettagli effettivamente i significati perché ogni singola pietra ha un significato qui dentro ma il santuario di santa maria delle grazie anche conserva delle opere d'arte molto preziose un simbolismo particolare nonostante sia stata costruita in un'epoca quella del novecento che non brilla in architettura ma che comunque ha dei riferimenti molto importanti riguardo al passato a cui tu facevi riferimento certo innanzitutto consideriamo una cosa tante volte noi siamo distratti dalla grandezza di questo luogo ma quando spesso sentiamo dire ma padre pio avrebbe voluto forse la chiesa più povera una chiesa più semplice perché poi c'è sempre questo l'idea di quest'idea io che combatto sempre l'idea che la povertà sia la miseria per i francescani in maniera particolare nulla è troppo di quello che viene dedicato al nostro signore tecnicamente potremmo dire se andiamo ad analizzare la chiesa di santa maria delle grazie è molto più ricca di questa chiesa quelle colonne che vedete sono colonne di marmo piene sono proprio immaginate che l'ingresso per san giovanni rotondo il famoso castello che qualche pellegrino va raccompiuto proprio nella strada che da foggia porta a san giovanni rotondo è stato sbancato e allargato proprio per permettere a questi grandi auto articolati di poter portare questo materiale per la costruzione di santa maria delle grazie e finire l'ospedale proprio per arrivare qui a san giovanni rotondo quindi quella è una chiesa che padre pio ha vissuto e ha visto costruire pietra su pietra e non si è mai lamentato in questo senso poi lì abbiamo opere straordinarie soprattutto la fada padrona naturalmente la scuola vaticana con tutti quei mosaici che voi vedete i più attenti ricorderanno che il primo grande mosaico quello che si vede della madonna delle grazie prima della beatificazione non aveva naturalmente nell'angelo che porge a padre pio la corona la corona di gloria né naturalmente la figura di padre pio ma il disegno è già originale quindi nel 59 c'era già quel disegno naturalmente nascosto sotto il mosaico quindi che viene poi semplicemente realizzato più tardi poi è la chiesa dove padre pio ha celebrato gli ultimi dieci anni della sua vita l'unica cosa non originale che potremmo trovare in quella chiesa quindi aggiunta in maniera successiva sono i tre mosaici dei tre grandi santi che accompagnano la figura di padre pio quindi abbiamo naturalmente giovanni paolo secondo e madre teresa di calcutta e poi san camillo quindi questi tre nuovi mosaici sono stati aggiunti successivamente e poi quello che è cambiato è l'altare perché perché la chiesa nonostante sia stata costruita dopo il concilio vaticano secondo è stata progettata se volete diciamo prima le le novità non erano così immediate con un concetto vecchio cioè la prima idea era dell'altare a muro ormai non si celebrava più con l'altare a muro in molti santuari che cosa si è fatto si è staccata la mensa ed è stata portata più avanti per creare i nuovi altari qui sembrava sconveniente perché la chiesa era stata appena realizzata quindi si realizzò quel tavolino anche se si consagrò vera proprio che doveva essere io dico sempre la classica soluzione all'italiana una cosa provvisoria di un paio di mesi è arrivato fino al giubileo del 2000 quando poi abbiamo non era più naturalmente idoneo quindi abbiamo costruito un nuovo altare e quell'altare adesso è incastonato sotto il tabernacolo della chiesa di santa maria delle grazie quindi anche lì storie straordinarie no padre pio spesso ecco questo me lo raccontavano i miei nonni lui pregava sul matroneo e quindi quando qualcuno faceva rumore giù lui agitava la corona dal matroneo come per dire dovete pensare a pregare no dovete dovete recitare dovete recitare il rosario quindi sicuramente un luogo che vive appieno naturalmente della presenza di padre pio sì maria antonia leonardo mi sente ecco perfetto leonardo è avuto un tempismo perfetto a rimettere la cuffia perché ti stavo parlando proprio in questo momento leonardo vorrei chiedere a carlos e poi anche a te facciamo questo gioco poi vi dirò anch'io il mio luogo preferito cos'è di quel santuario di questo luogo che lui sente più suo cos'è che ancora oggi lo lo affascina e lo stupisce se dovesse scegliere un angolo qualcosa un luogo più di tutti sì maria antonia mi chiede a te a me qual è il luogo il tuo luogo preferito del santuario se lo dovessi scegliere se parliamo non so proprio come opere del santuario io sono particolarmente legato per esempio per questa chiesa superiore a lambone lambone il luogo che mi ha sempre ispirato da da tutti i punti di vista è sempre stato un luogo che mi è stato particolarmente caro per quanto riguarda la chiesa di santa maria delle grazie veramente per me quello è tutto il luogo del cuore perché quello era per un periodo quando eravamo veramente piccoli e tanti altri quindi facevamo i crichetti era un certo qual senso un po anche il nostro parco giochi perché poi i frati sa come con i bambini piccoli ci permettevano di correre lì tra la sacrestia tra insomma di partecipare alla messa non c'era erano altri tempi non c'era tutta questa diciamo solennità non c'erano neanche tutti questi pellegrini per cui per me io santa maria delle grazie me lo prendo in blocco non non riesco a scegliere qui sì in questa grandezza ripeto lambone ma io sono innamorato di questo luogo per cui veramente come chiedere a un padre il figlio preferito è impossibile sì in effetti anch'io cioè noi abbiamo condiviso l'esperienza dell'altare sia qui che a santa maria delle grazie ovviamente nostro luogo del cuore non può che essere diciamo legato all'altare io qui davvero ho prestato servizio a non so quante celebrazioni eucaristiche lo stesso santa maria delle grazie però tutto questo complesso davvero è speciale perché ci sono dei ricordi che resteranno davvero indelebili la palla passa a te ora maria antonia dici tu qual è il tuo luogo del cuore per me è il sagrato senza il sagrato è l'effetto soprattutto che che esercita il sagrato ovvero questa magnificenza che che si apre ai nostri occhi non appena mettiamo piede su quel luogo sacro questa è davvero un'opera straordinaria e noi dobbiamo davvero come abbiamo già anche detto prima essere grati per avere questo dono qui in casa nostra perché spesso quando le cose questo lo diciamo sempre però purtroppo è vero quando le abbiamo qui molte volte facciamo fatica ad apprezzarne la magnificenza quindi io credo che questi spazi anche di queste nostre dirette grazie anche appunto alla presenza di carlos siano davvero importanti perché attraverso la conoscenza passa anche poi la costruzione di un rapporto d'affetto verso questi luoghi ed è bello anche che voi abbiate dato il vostro ricordo personale di come siete cresciuti in questo posto e questo comunque si evince si capisce anche nel modo che avete poi di raccontarli sì permettimi una cosa però maria antonia se potessi dare un consiglio anche a coloro i quali non solo si avvicinano o per la prima volta magari anche per più volte essendo stati qui a san giovani rotondo il consiglio che io do personalmente quello di viversi questi luoghi nelle giornate come queste in cui abbiamo 20 25 persone in cui davvero è possibile in qualche maniera scandagliare ecco tutto l'universo che c'è qui dentro perché magari con la folla uno è portato più a quello spirito di sopravvivenza ecco passatemi il termine che tante volte quando c'è gente uno deve deve portare avanti ma nei giorni più tranquilli nei giorni feriali qui davvero si può respirare e capire il perché di sono state fatte determinate scelte perché padre più è stato traslato dalla chiesa di santa maria delle grazie alla chiesa di san pio perché è stato realizzato un percorso di mosaici perché ogni arco ha una pietra diversa e differente l'una dall'altra tutto fa parte di un unico disegno e tutto concorre appunto a migliorare anche il pellegrinaggio di coloro i quali vengono qui per mettersi dinanzi a padre pio non so carlos se condividi questa riflessione sì sì io lo dico sempre san giovanni rotondo per quanto facile da visitare in una giornata non è un santuario che si può vivere in un giorno solo deve essere vissuto in ogni stagione della dell'anno perché ha un senso padre pio la veglia di padre pio ha senso quella festa ma ha senso la ferialità del resto è la storia della chiesa noi abbiamo giorni di festa e giorni di ferialità quindi è bello ed è giusto vivere il pellegrinaggio in questo luogo in questa maniera sicuramente venire da soli venire in questi momenti gratifica più è vero che è anche bello e gratificante vedere un'assemblea in festa cioè la festa domenicale è centrale nella nostra vita quindi una domenica con una chiesa vuota non ha senso quindi il bello di vedere questa chiesa piena non è soltanto vanità per dire vedi quanta gente viene proprio gratificante proprio ti gratifica e questo è il pensiero che fanno molti sacerdoti anche molti vescovi quando sono venuti a celebrare qui sono gratificati dal fatto di questa assemblea che partecipa però è anche vero che se vuoi riscoprire il signore ce lo dice alla fine quando tu vuoi fare la vera preghiera ti devi chiudere nella tua stanza quindi quando vuoi fare il vero pellegrinaggio lo fai in un certo qual senso da solo e ti ritagli quei momenti che la tua vita ti permette insomma grazie grazie carlos grazie leonardo siete stati preziosissimi tutti e due per celebrare questa giornata speciale salutiamo carlos che rivedremo nei prossimi giorni invece con te ci rivedremo qualche minuto prima all'inizio della celebrazione eucaristica grazie ancora grazie carlos ciao ciao a tutti